Sono nell'Arcovolo dell'Arena, è la notte del 20 luglio, e c'è con me Katia Ricciarelli. Katia, manda un saluto, per favore. Chi è? Mio, io. A te? Sì. E io per i miei seguaci. Molto carina Katia. Poi c'è Boldi, 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 salute mio, salute, Maurizio Valdelli, Gigliola Cinquetti, Franco Pini, Nini Salerno, vi assicuro che è Gigliola Cinquetti, niente sono io, Gigliola Cinquetti e la chiamavamo la Ola. A Verona la chiamavamo la Ola. Per noi tutti era la Ola. Esatto. è diventata così poi famosa che hanno fatto lavoro agli stadi. Stiamo finendo la serata qui. no, la caramella questa. C'è la Ricciarelli che non ne può più, è stanca, non vedo l'ora di... La nottata, sì. Vabbè lì c'è Falso Leali, Greggio appena da dormire. Ed eccoci qua. Poi attendiamo di fare Verona Bette per il gran finale. Sono sempre io, sono qui nell'arcogolo dell'arena, c'è Falso Leali. Falso Leali che parla con me. Mamma era Falso Leali che ti salutava. Ma vedo arrivare anche Fabio Testi. Alla dietro. C'è Fabio Testi. Fabio. Noi lo chiamiamo Fabio. Fabio. Gironese come noi, eh. Gironese come noi. C'è Fabio Salerno. C'è Fabio Salerno. Come era la canzone che mi piaceva tanto dell'equipo a me? A me tutte! Dell'equipo? Dell'equipo? L'equipo. Ah, torno a casa. Torno a casa, tanti sul treno, occhi stanchi ma nel cuore sereno, dopo tanti mesi di lavoro mi riposerò la mia lingua sentirò chi l'ha scritta questa canzone Maurizio chi l'ha scritta torno a casa. A me piaceva quella dell'equipe, sai così non può continuare, sai così non non può continuare.